Buonasera direttore, un saluto a tutti. Abbiamo anche un ospite molto speciale, molto particolare. Ma prima di presentarvelo, voglio dirvi brevemente gli argomenti di questa sera, perché ci sono delle novità molto importanti. Intanto c'è un clamoroso sviluppo sul caso Di Bala. Noi abbiamo parlato con l'entourage di Di Bala e sostanzialmente in questo lungo inseguimento che c'è stato a Di Bala, improvvisamente c'è stata una frenata, un'accelerazione che potrebbe ribaltare tutto quanto si era detto finora. Per inciso, c'è una notizia molto importante che riguarda anche il Milan, perché il Milan, rispetto a tutte le ipotesi Ziek, De Ketelere, Di Bala, ha preso una decisione fondamentale che vi daremo naturalmente nel corso della trasmissione. Tra le altre cose avremo anche questa cosa molto carina che hanno fatto gli autogol con Marotta e Inzaghi, facendo vedere dei nomi coperti di mercato e noi cercheremo di indovinare anche Davide Gli Indizi. Tu sai chi sono i nomi? Eh beh, è sempre il primo della classe. Lo so io signora maestra. No, oggi è possibile. Poi c'è un incredibile nuovo nome per l'attacco della Juventus che vi daremo tra breve e poi gli aggiornamenti su Zagnolo, la vicenda Mendes che sta influenzando presentemente il mercato del Milan, perché Mendes pare, lui è quello che deve occuparsi, sembrerebbe anche di Leao, poi è una cosa un po' complessa, però su Renato Sanchez, Mendes, vorrebbe fare un pacchetto, insomma adesso vedremo come andrà a finire. L'ospite più prestigioso di questa sera ve lo presento per ultimo, abbiamo il solito Mauro Suma, Zanfolino, così, così, così. Posso chiederti uno strappo al protocollo della trasmissione? Eh. Quando presenti l'ospite? Eh. Io mi alzo in piedi. Mimmo Pescio, eh. Buonasera. Mio stile l'avete già visto? Buonasera a tutti. È il grande Luisito Suarez. Buonasera di essere qui con noi stasera. Finalmente sono arrivato, perché loro non mi invitavano, ma io ho fatto, ho fatto, ho fatto, ho fatto, fino a che mi sono fatto. Hai dovuto insistere. Sono arrivato qua. Hai avuto delle mail per essere invitato? Sì, sono un ex calciatore di buona qualità. No, la verità è un'altra, perché poi io tanto tempo fa l'ho corteggiato lungo Luisito, perché poi lui andava ospite a Telenova, tanto c'è. Certo. E gli dice, ma perché non vieni da noi? E lui dice, ma io sono abituato ad andare di là. E poi non gli do più fastidio. Poi un bel giorno Rossi mi ha detto, ma sai che ho parlato con Luisito? Dice, quello una sera verrebbe volentieri. E allora, insomma, per noi è un onore. Abbiamo anche qualcosa da farti vedere, un piccolo amico. Però tu sai che avevo un problema, no, oggi? Sono venuto perché siete voi, veramente. Perché mi è arrivato della roba del pesce di casa mia, della Corugna, e dovevo mangiarlo. E non sapevo se arrivava alla sera. Infatti c'era il dubbio. Dice, viene, sembra di sì, ma non è sicuro. Non dipende dal pesce. Mi faccio mandare il pesce di 2000 km di distanza. Comunque fresco. Ah, no, i corostacci più che altro, eh. No, il pesce c'era per tutto. Sì, io e lui siamo galiziani, quindi insomma. Allora, adesso che è, è quasi quasi. Due minuti da leggere, partiamo grazie da poco. Eccoci qui, c'è Luis Salles che sta raccontando delle sue... Del 65, il famoso, la famosa sconfitta dell'Inter, 31 gennaio 65, a Foggia, 3 a 2, che però dà loro la grande spinta per fare la rincorsa sul Milan, che era... Loro erano andati a meno 7 dal Milan e dal 31 gennaio fino alla fine del campionato rimontano e li scavalcano. Con i due punti oltretutto. Esatto. E Mauro Suma è commosso da questo ricordo. E senza asterischi, e senza asterischi. Allora, Federica Ribattomeo, per i giovanissimi che... Come me, tra l'altro. Sì. Eh beh. Sì, perché anche tu non hai avuto il piacere di... Io ho studiato, infatti, stasera, direttore. Ho studiato, mi sono molto preparata e quindi adesso farò una bella presentazione del nostro ospite. Sì. Noi abbiamo alle spalle un po' d'immagini tue, eh. Considerato, e questo lo sanno tutti, anche i più piccoli, uno dei migliori giocatori della sua generazione, anche e soprattutto nel suo ruolo. Ha esordito nel Deportivo La Corugna per poi passare subito al Barcellona. Nel Barcellona ha giocato 8 anni e ha vinto praticamente qualsiasi cosa. Due campionati. Ti interrompo un secondo. Io ho esordito con il Deportivo a Barcellona, contro la Barcellona, nella prima partita. In Coppa, che si giocava dopo la Coppa di Spagna, in quel periodo, ho esordito con il Barcellona contro il Deportivo a casa mia. Sì. Io ho fatto 8 anni, sì. Con il Barcellona ha vinto praticamente di tutto. Possiamo vedere anche il Palmarès, due campionati, due edizioni della Coppa di Spagna, due edizioni della Coppa delle Fiere e nel 1960 ha vinto anche il pallone d'oro. Pallone d'oro. A Barcellona. A Barcellona. Nel 1961 sei passato all'Inter, giusto? Il secondo gol. Cioè quindi nel 60 tu vinci il pallone d'oro, sei il giocatore più importante della Spagna. Ma con la Spagna campione d'Europa. È l'unico che l'ha vinto ancora oggi. In Spagna. Non l'ha vinto più nessuno. Il spagnolo non l'ha vinto più nessuno. Adesso stanno, vogliono fare una festa con questa ragazza, questa donna che gioca nel Barcellona, che ha vinto il pallone d'oro, la donna. Il prima, sì, la puttega. E vogliono fare una festa. Perché c'è di Stefano ma è oriundo. Eh no, no. Però lui non l'ha vinto. Cioè lui l'ha vinto però era dopo diventato spagnolo. Ma lui era argentino. Diciamo spagnolo, spagnolo, non l'ha vinto nessuno. Solo un anno sono stati lì vicino sia Iniesta che Xavi, però l'ha vinto Messi. No scusi, lei l'ha vinto quando giocava al Barcellona. Barcellona. Non con l'Inter. Nell'Inter due volte al secondo. Eh che peccato. Che peccato. No, una veramente perché allora se gli dava meno importanza. Quando ha cominciato questo trofeo, era un trofeo un po' così. Dopo si è sviluppato, si è sviluppato e adesso fanno una festa. Prima niente è venuto uno, un dirigente dell'equipe. Il direttore. Il direttore dell'equipe. A una partita di campionato normale spagnola. E' andata a metà campo, me l'ha dato, me l'ho preso, gliel'ho dato al massagliatore. Ho giocato la partita, l'ho preso e l'ho portato a casa. E' lì finito tutta la festa. Però col passare degli anni è aumentato. E' l'anno che ho vinto nel 64 con l'Inter. Campionato. Coppa di campione intercontinentale. Diciamolo bene, diciamolo bene. Campionato, Coppa campione intercontinentale. E' campionato d'Europa con la Spagna. Eppure non l'ho vinto. E ho vinto Dennis Long che aveva vinto un campionato inglese, aveva fatto poca cosa. Mentre che l'altro anno no, lì ho avuto un nemico forte che era Sivori, ha vinto Sivori. Un anno ha vinto Sivori, che erano andate molto avanti in Coppa di campione allora. Però, ecco, voglio dire, quando l'Inter prende Suarez a Barcellona, era come prendere oggi Mbappé. Era il migliore Europa. Cioè, pensa... Il migliore europeo mondiale come trasferimento. 25 milioni di pesetas, che erano 250 milioni di lire. All'epoca... L'anno 60 era... Fatti raccontare, Fabio, quando lui viene acquistato dall'Inter, lo portano a vedere la partita... Luiz, quanti anni avevi? Eh? Quanti anni avevi quando ti ha preso l'Inter? 26. Lo portano a far venire l'Inter che giocava... No, l'ultima partita di campionato. A Catania. A Catania. A Catania. Lui quando vede l'Inter a Catania. No, era una giornata, era fine giugno, roba del genere. Un caldo, era una giornata. Fanno una partita questi qua, l'Inter... Allora io ero con Alodi, poi Herrera, quando ha fatto il casino per prendere, vedrai, vieni tu, vinciamo, ci avevamo una bella squadra, vinceremo... Cazzo, ho finito la partita, le faccio a questo Alodi. Senti Italo, ma con questa squadra qui... Tutto quello che mi avete raccontato... C'è bisogno di me. No, guarda che è una partita un po' così. Ti sei fidato, ti sei fidato. Ha perso 3 a 0 mi sembra, ma sai quelle partite brutte, la fine campionato che non c'entrava niente. Facceva caldo. Era micidiale. No, una curiosità, io leggevo, perché ripeto ho studiato, leggevo che da ragazzino eri molto molto magro, tuo papà aveva una macelleria e che ti aveva fatto mangiare tantissime bistecche per farti robustire un pochino. Eh beh, dopo nel quartiere sono diventata... non la vendevamo di più, sì. No, siccome prima hai detto che mangi il pesce, ti piace... Non c'ho le mani da macellaio, però... Ma scusa, tu parlavi di Di Stefano, sai che molti dicono il più grande calciatore... Lui pure, anche lui. Non è stato Pelé, non è stato Maradona, il più grande è stato Di Stefano. Io poi ci ho giocato molti partiti contro e ci ho giocato con lui in nazionale parecchi, anzi abbiamo esordito lo stesso giorno in nazionale spagnola, per cui sapevo delle difficoltà perché c'aveva marcature. Io ho detto, per me, i tre più grandi, per me nell'ordine sono Di Stefano, Pelé e Maradona. C'è un podio lì, io metto quei tre lì, poi ci sono stati tanti altri dietro lì, ma per me sono... Lui se... Però se mi dicono uno dico Di Stefano, perché faceva tutto. Correva, giocava, faceva cannonieri, faceva tutto. E tu in che zona sei? Lì vicino? No, sì. Luiz, senti, Luiz, e Schiaffino... No, io a Barcellona ne facevo anch'io dei gol, facevo quasi 18-20 gol all'anno, per un centrocampista sono tanti. Però avevamo, per esempio, noi Ivaristo, che era un brasiliano, facevano 35. Di Stefano Puskal facevano 35. Luiz, senti, Schiaffino invece... Di Schiaffino cosa mi dici? Di Pepe Schiaffino cosa mi dici? Schiaffino. Di Pepe Schiaffino cosa mi dici? Beh, anche quello è da mettere... Però ha fatto come meno anni, in Europa è stato meno reclamizzato, no? In Sud America era molto di più che qua. Però era un giocatore anche lui fuori di tutte le canone, era fantastico. Ma di quelli più recenti? Anche con il fisico che aveva riusciva a fare delle cose fantastiche, tecnicamente era impressionante. Di quelli più recenti? Però sai, devi scegliere qualcuno, non puoi mettere tutti. Ronaldo, quello che tu hai conosciuto? Eh, Ronaldo però viene dopo, sì. Eh sì, quello anche. Ronaldo è impressionante, finché non si è fatto male. Io dicevo sempre scherzando, a lui dicevo, senti ma tu non è che c'hai un motorino, no? No, quando faceva il cambio del ritmo, cambiava, sembrava che lo faceva... Allora dicevo, non è che c'hai un motorino in risposta. Senti Luiz, invece dopo che con l'Inter hai vinto tutto, tu sei rimasto molto legato all'Inter. Ecco. Sono rimasto in Italia, soprattutto all'Inter. Eh. Anche alla Sampdoria. Sì, è vero, perché poi hai fatto... No, ho fatto tre anni meravigliosi a Genova. Ma perché questo amore per l'Inter? Cioè tu arrivi dalla Coruglia, sei spagnolo... Eh sì, va. Cos'è che ti ha fatto innamorare? Una questione per me è abbastanza semplice, cioè io parto da Barcellona e vengo qua. E record di trasferimento europeo-mondiale, patatin patatà, no? Vengo all'Inter. L'Inter ha un po' di anni e non vinceva niente di niente. Aveva vinto l'ultimo campionato parecchi anni addietro, vinceva uno e dopo dieci anni vinceva l'altro, eccetera. Arrivo qua e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, sono rimasto legato, perché quando sono partito ho detto, cavolo, chissà cosa aspettano di me in Italia, per i soldi che avevano spesso, no? Cioè sentivi la responsabilità. Ero scherzato e diceva, non penseranno che faccio il cross e poi vado a segnalare. E dicevo, ero molto preoccupato di essere all'altezza di questa cosa qua. Invece dopo è andato bene, non bene, benissimo, in maniera talmente bene che sono legato alla squadra e naturalmente alla città. Poi, quegli anni lì, Milano era una città meravigliosa, economicamente era un boom tremendo gli anni 60, cioè era un tipo di vita, tutto che mi ha fatto passare e neanche tornare. Perché io pensavo, vado in Italia, gioco 4-5 anni e poi torno a casa, no? Avevo vissuto a Barcellona, o a Barcellona, o a Corugna, invece sono rimasto qua, capisci? Perché ti piace il mare? Perché era andato tutto oltre le previsioni che avevo fatto io. Ma uno che vive al mare, che sta a Corugna, che sta a Barcellona qui... Sì, è quello che mi manca, vabbè, però dopo ho finito a Genova, vedete che... Allora, due minuti nella legge, torniamo a Gazzarvoco. Eccoci qui, no, mentre eravamo in pubblicità, ci raccontava una storia bellissima Suarez, di quando il Cagliari ti aveva chiesto di andare a 35 anni a giocare... No, è venuto a fare un colloquio con me, Scopinio, mi ha telefonato e è venuto a Milano. Cioè, il Cagliari vince il campionato? E quando ha vinto il campionato? Nel 70. Nel 70. 70, cos'era? 70. Ecco, tu avevi finito con la Sampdoria... No, no, no. Eri a l'Inter? Dopo sono andato alla Sampdoria, ho finito con l'Inter. Con l'Inter! E un giorno Fraizzoli mi chiama e mi dice, senti, Riberto Herrera ha detto che tu e Corso non potete giocare insieme, allora uno dei due deve andare via. Io l'ho detto subito, guardi Presidente, va benissimo, meno male che è arrivato adesso Riberto, perché con tutto quello che avevamo detto, giocando insieme, però se lo dice lui può darsi che abbia ragione. Però se lei me la pone così, io ho 35 anni, lui l'altro 29, è giusto che vada via io. Non ho del ragionamento. Nel frattempo di queste cose mi ha chiamato Scopinio. Al Cagliari? Sì. Mi ha chiamato e dice, vengo a fare un corso con te a Milano. Prima della Sampdoria, Fabio. Posso? Sì, sì. Vieni all'albergo tal. E vieni all'albergo e vado lì e mi dice, guarda, io ho bisogno che tu vengas lì, perché ho una squadra bellissima, però tutta giovane, che non sa cosa sia la Coppa dei Campioni, e ho bisogno di uno come te. L'ho detto, cazzo, vengo di corsa. Vengo, anzi, non faccio problemi economici, niente. E niente, però l'Inter no, l'Inter no, alla fine niente. O dovevo smettere e allora sono andato. E allora mi è toccato andare a Genova perché hanno preso frustalupi dal Genova, dalla Sampdoria. Perché, Fabio, la gente non lo sa, e anche Mauro prima era un attimo stupito, ma all'epoca i calciatori non erano liberi di andare dove volevano, erano vincolati. E' un calciatore dove voleva la società. Eh sì. Era una società che decideva dove andassero andare. Cioè, un calciatore, in effetti questo dimostra anche quanto fosse assurda quella legge. Tu hai 35 anni, hai dato tutto per una squadra. Ma all'epoca il Cagliari ci fu il famoso rifiuto da parte di Riva, che non volle muoversi da Cagliari. E in questa epoca sarebbe dovuto andare. Sì, vabbè, però tu potevi anche non andare, se volevi. Però anche smettere ti potevano fare smettere. Ah, certo. Tu non andavi, però come minimo rimanevi lì. Cioè, all'epoca i calciatori e anche un fuoriclasse assoluto come Suarez erano, tra virgolette, proprietà del club. Come se fosse un oggetto. Una volta che ti acquistavano... E in quello la legge Bosman è stata anche una legge di giustizia. Perché dimmi tu se, per il capriccio, adesso la riflessione non c'è più, ma insomma, per il capriccio di un presidente che dice no, al Cagliari non ti faccio andare. Non era un capriccio, Fabio. È che io devo scrivere un libro. E l'Inter lottava con il Cagliari, cioè lui andava a giocare con Gigi Riva. Ravi, devo scrivere un libro io. Eh. E allora l'Inter adesso... Tu immagina... Ti racconto, quando sono andato io dalla Corugna a Barcellona, il Barcellona voleva prendere un giocatore che si chiamava Mol, un uruguayano che giocava nel deportivo. E io avevo iniziato. Questo è il Barcellona, avevo fatto delle cose e le piaceva. Quando sono andato a fare il contratto a quello lì, diceva no, se no ma al ragazzino no, non ci interessa tanto quella. Il presidente del deportivo era uno che l'aveva detto al dirigente che andava a Barcellona a parlare. Quello lì lo deve dare anche a gratis, se no paghiamo anche noi i soldi, perché se l'aveva preso con me. Eh, sì sì, allora questi si erano semigliati e cosa hanno fatto? Hanno preso quell'altro lì e disse, va bene se il ragazzo, sì dai, ti do 20.000 pesetta se metterlo assieme al 450.000 dell'altro. E mi ha buttato, mi ha mandato così. Regalato. Quello presidente lì, cazzo, alla Corugna l'hanno ammazzato. Certo. Poi lui, il poverino, mi ha chiamato, mi ha fatto un errore. Ma niente, diceva che non voleva vedermi, che no. Beh, insomma, si è mangiato il pallone d'oro così per 20.000 pesetta. Sì, una cosa strana di pelle, ma non avevamo fatto niente. Però già era successo qualche cosa, perché io alla terza partita che ho fatto in Serie A, Barcellona, in casa una col Valladolid, andiamo a Santander. Santander è una città universitaria molto. E il presidente era un medico, aveva fatto tutto. Non veniva mai dentro le partite nostre. A quella lì è venuto, a Santander. Iniziamo la partita, finisce 0-0 il primo tempo. Una partita così, ma giocavamo tutti male. Questo qui entra nello spogliatoio. La prima volta che entra, entra e dice, cazzo, ma che merda di partita. E punta così, dove ero seduto io. E tu che cazzo fai, che non fai niente, che non sei capace di niente. Alla terza partita. Allora, il portiere era uno che io abitavo una via, Caglia di Hercules, alla Coruglia, nel 20. E lui nel 22. Era 1.90, si è alzato, sai che i portieri erano... Allora, anni fa erano tutti un po'. Si alza, vada via di qua, le do un cazzotto che lo ha ammazzocato. Sono fuori, lo spogliatoio. L'allenatore non capiva niente. Quanto è finita la partita? Eh? Quanto è finita? Sero, sero. Ma cazzo quello... Vabbè, però mica parlavano in italiano, cioè spagnolo questa cosa qua. Non ho capito. No, mica lo dicevano in italiano, spagnolo. No, io traduco. Ah, eh. Perché pesce... No, io che ne so, magari parlavano in italiano. No, no, no. Lo so, io alla Coruglia non sono mai stato... No, no, il portiere che all'Italia mi stava fatto, Cazzo, era intimo amico. Giocava con i miei fratelli che erano più grandi, ma dopo era andato a questa prima squadra. Ma quando poi tu hai smesso, sei rimasto nel giro dell'Inter, no? C'era tu con... No, vabbè, subito no. Io sono rimasto lì, dovevo fare... Avevo parlato con Colantoni per fare l'allenatore del settore giovanile. La primavera è prendere il settore giovanile. Però nel frattempo Colantoni va via, si rimetti. Quelli che sono rimasti, che era l'Olighetti, mi sembra, uno che vendeva caffè... Petrolio, petrolio. Sì. E non mi dice niente, finisce il campionato, non mi dice niente, non mi dice niente, non mi dice niente, non mi dice niente, non mi dice niente. Io ha nervi così. Allora, vado un giorno al Porticciolo a prendere un caffè e Fossati, che era presidente del Genova, allora abitava in una vila un po' più avanti di me. E ci vedevamo spesso. Ah, ciao, cosa fai? Eh, prendere un caffè. Ma che cosa fai? Non ti sento. E ho detto no, mi è successo questo. Mi dicevano che di fare l'allenatore, no? Però dopo non mi hanno detto niente. Mi diceva, vuoi venire a Genova? Sì. E sono andato a Genova a fare... Settore giovanile. Tenevo tutto il settore giovanile e facevo la primavera. di cui ho tirato fuori Pruzzo, il famoso... Ah, no, 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 Pruzzo. Toccava nella primavera. Facevo la gola, 35 gol, faccio la primavera. E sono andato a Genova. Poi ero lì e un anno, un anno dopo, pensavo di fare un po' di anni lì, mi aveva detto Fossati, fai un po' di anni qua e poi prendi la prima squadra. Vabbè, per rimanere a nervi stavo da lì. Stavo lì. Cazzo, niente, l'anno dopo mi chiama l'Inter, mi chiama Frecciola, e mi dice, senti, ho bisogno che tu venga a Milano. Sì, perché voglio prendere Valcareggi, che era già un po' grande, dopo la nazionale, così, e voglio che tu venga con lui, che se l'aiuti, che se dopo rimani qui. Però dopo Valcareggi, non so perché, non viene. E allora mi mette a me, cazzo. E sono andato io all'Inter così. Ma quello era l'Inter giovanissimo, era l'Inter con tutti i giovani. E l'Inter ha messo sette giocatori della primavera, Canuti, Bini, Gasbiatti, Cerilli, Nicoli, in prima squadra. Poi c'erano due già rincoglioniti del mio periodo, Mazzola e Facchetti, che era lì, e poi c'erano Giubertoni, c'era lì. Che anno era? Che anno era? Vieri in Porta, Vieri in Porta. Eh, penso 73, roba del genere. Sì, sì. Penso. No, no, sono tutti questi. Della primavera sono salito in prima squadra. Non ha fatto neanche un... L'unico acquisto l'ha fatto è Cirilli, che veniva della Serie C. Della Serie C. Vieni quando dicevano che davano le occasioni ai giovani. C'erano i vecchi, i Bertini, così. Cioè, quindi era Mazzola, Facchetti, come, che ho, i Cianziani, però, ormai. E Vieri in Porta, Vieri in Porta. Vieri in Porta e poi hanno promosso quelli della primavera. Penso se lo facessero adesso. Sì, no, facevano qualcuno, Bertini, così. Però hanno immesso sette, otto della primavera, in prima squadra, perché fare soldi non voleva spendere, cazzo. E la gente era arrabbiata? Eh, no, era accettata, pensava che facevamo... Invece no, poi siamo arrivati a quinti o sesti, non so. Eh beh, ti credo. Poi in un dato momento c'è stato qualche scherzio e io sono andato da Frizzone che andava sempre a fare i bagni, non so dove lì, a... dove era, in Toscana, mi sembra. Sì, a forza. Sono andato e senta, la ringrazio tanto, ma io qui... Ma no, ferma... No, 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 io vado... Un anno. Torno a Nervi. Un anno ha fatto, un anno. Sì, un anno. E poi quando sei tornato invece, per fare un po' l'osservatore... Comoratti, no. Comoratti, primo osservatore e poi al posto di Bianchi. Eh. No, poi... Comoratti sì, ho fatto il capo osservatore. Certo. Comoratti, Massimo, eh. Sì, con Massimo. Hai fatto anche l'allenatore, Luis. Sì, in una stagione... Sì, quando ha mandato via Ottavio Bianchi, è andato lui in panchina. Sì, però sono andato un po' di partiti. Sì, poche partiti. Perché dopo veniva Oxion. Esatto. Il famoso Oxion. Roi, sì. Sì, ti ha detto, volete vendere Roberto Carlos? Sì, no, è tanto quello lì. Ha fatto un po' di carriera, dopo ha fatto un po' di carriera. Un po' di carriera, sì. E perché non gli hai detto che era una fesseria a vendere Roberto Carlos? Perché se doveva decidere il presidente, non io. Ma tu l'avrai detto a Moratti? Ha giocato un anno, ha fatto cinque o sei gol, tra l'altro. Sì. E questo qui, il Madrid è venuto, ha fatto un'offerta, che non era neanche mostruosa, e questo qui l'ha chiesto, ma cosa... Sì, no, no, farò andare. Che carriera. Cazzo, ma io dopo sei mesi sono andato in Spagna a vedere una partita che giocavo al Madrid, a vedere un giocatore, a Zaragoza, è il presidente che tra l'altro lo conoscevo io di prima. Ha detto, cazzo, perché non ci dai quello della parte destra? Voleva anche Zaragoza. Guarda, presidente, fare sarebbe completa l'opera. Almeno qua non l'abbiamo tenuto. Sì, almeno. Ma al posto di Roberto Carlos? No, tra l'altro, tra l'altro sono i due giocatori, che avevo i due primi giocatori che ho preso io per l'Inter. Perché quando è entrato Moratti c'era Bianchi, allenatore, e lui voleva giocare con tre difensori e due che spingesse. E ci ha mandato in Sud America. E sono andato con Branchini, con Giovanni. Branchini veniva perché sì, c'era qualche cosa già. Intermediario. E abbiamo preso Zanetti e Roberto Carlos e Ramber. Abbiamo uscito. Abbiamo uscito, no? Per cui, nel primo viaggio è andato a Calcio. Ma questo qui continuava a smantellare l'anno dopo, che vende Roberto Carlos. Cos'è questo qua? Capito? Ma perché l'Inter prese Hodgson? Cioè, che senso aveva? Era Miss Visser, l'aveva fatto con la nazionale di Vizio contro l'Italia una buona figura. Però era uno che non conosceva niente del calcio italiano. Ma il primo Moratti, Fabio, aveva questa roba dell'Inghilterra. A metà strada. Ha preso Inse. E han preso lui. Però lui, se aveva il patentino straniero, doveva aspettare un permesso, eccetera. Allora io ho fatto... Un po'. Cinque o sei partite. Tra l'altro io ho preso subito i giocatori, mi ricordo con Gans, ancora con l'incrocio, Gans, con Roberto Carlos. Sentite, io sto qui cinque o sei partite, ma a me non vorrei piatti con le ore. Dopo viene però lì. Facciamo sul serio, facciamo qualche cosa di buono. Infatti però hanno fatto gol, perché Gans ha fatto gol parecchi. E Roberto Carlos anche. Ma Olson, voglio dire, era troppo presuntuoso. Cioè se io sono Olson e parlo con Fran Suarez e mi dice, guarda che Roberto Carlos è un fenomeno, ci penso un attimo. Perché non ti ha dato retta? Eh? Perché non ti ha dato retta, Olson? Ma non doveva darla... No, ma tu gli avrai detto che fosse... Non è dato nel merito. Lì ha dato per la società, la società doveva dire, no, non lo vendiamo. Non lo vendiamo. E se lui voleva che lo vendesse, diceva, no, lei te lo tiene questo qua. Perché è il tuo fattore... Ma ti avevano chiesto un parere, Luis? Ti avevano chiesto un parere? No, a me, no. Eh, se me lo chiede, come fanno? L'aveva scelto lui. Lo portavo presso io per l'Italia, e gli dico che vada via. Non è entrato nella vicenda. Senti, da casa sono entusiasti di queste raccoglie. Eh sì, c'è questo telespettatore che ti scrive e dice... Sono quelle strane che ogni tanto capitano nel calcio, non si capisce. Da casa ti scrivono, uomo è calciatore di grande eleganza, è sempre un piacere vederlo, ed è soprattutto in grandissima forma. Sì, in grandissima forma, bravo. Per avere 62 anni sei... Adesso? 72. A 72 corichiamo ancora. Adesso c'ho un ferro qua. Ogni tanto mi tirano dietro la gamba. Io penso che c'ho qualcuno dentro. Ogni tanto mi tirano la gamba dietro. Due minuti in aere, ci arriviamo. Grazie. Allora, rieccoci intanto. Saluto Fausto Terenzi, che mi ha mandato un vocale, dice che è meraviglia vedere Suarez, una cosa che mi emoziona, una cosa bellissima per tutti noi interisti. Giorgio Ravaioli, sempre uno dei nostri, mi dice chiedi a Suarez di quella volta, la domenica sportiva, era vicino a Eriberto Herrera, che voleva farlo giocare libero e non a centrocampo. Quando Pigna, il conduttore, chiese a Suarez, dipendesse da lei, giocherebbe a centrocampo o libero, tu pare che abbia risposto, dipendesse da me, allenerei io, e le cose andrebbero molto meglio. Con l'alleatore vicino. Chissà come raccontente Eriberto. Aveva delle idee tutte strane, Eriberto. Ma non puoi direlo davanti. E per quello che poi ha detto, senti, tu e Eriberto non potete giocare insieme. Senti, dimmi un acquisto particolarmente, quando hai fatto il dirigente osservatore, di cui sei molto orgoglioso, e un acquisto invece che non sei riuscito a fare, che hai il rimpianto di non aver fatto. Allora, diciamo, uno si parlava, si parlava un momento fa, i due primi che sono andati in Sud America, per Massimo Moratti, che avevano preso, assieme a Branchini, Sanetti e Roberto Carlos. Sono stati due grandissimi. Poi quello di Ronaldo, però lì, non è che ho scoperto, mi è toccato solo di andare là, fargli firmare il contratto, che giocava non so dove, Nicaragua, un posto di quelli lì, strani, e basta, no? Io avevo parlato, sì, di Ronaldo, però era solo questione di soldi, non era... Eh sì, perché pagò la clausola decisoria, 48 miliardi. 48 miliardi, sì. Poi, per esempio, la cosa che mi è rimasta, sì, alla fin fine, ho sbagliato, può darsi, però che, secondo me, non ho sbagliato, è stato con Zidane. Con Zidane, a noi ci chiama, uno che le faceva il procuratore, quando giocava nel... Bordeaux. Nel Bordeaux. 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 E giocano a Monte Carlo, e ci chiamano, venite a vedere questo ragazzo, che è là, lui e Dugarri ci avevano detto, no? Che Dugarri è venuto al Milan, mi sembra. Sì, e siamo andati Mazzola e io a Monte Carlo. Questo qui fa una partita di... orribile, sembrava uno che non sapesse giocare a pallone. E siamo andati, dopo la partita lì, nell'albergo, nella piazza, il famoso lì, non so come si chiama. E' arrivato Zidane, perché veniva a trovare il procuratore. Ah, come va? Eh, era un po' mogio, ma cazzo non so, oh, che è l'altro, eccetera. Alla fine è stato anche simbatico fa. Oggi non ero io, ero mio fratello. Che cosa penserete di me? Diceva, poverino, era proprio... Eh, vabbè, capita, vabbè, dalla chiacchierata, siamo andati via. Allora io ho detto a Mazzola, bisogna andare a vederlo. Sono andato a vedere un'altra partita, del Bordeaux, e anche lì è andato così, così, cazzo, era un scarognato, non lo faceva. Poi un po' più avanti, va in nazionale anche addirittura, va in nazionale, vado a vedere la partita. Cazzo, anche lì, ha giochicchiato, ma non tanto. Gioca molto bene, Giorca F, che giocava a mezzo alla destra, Giorca F è mezzo alla destra, lui a mezzo alla sinestra. Fa una grande partita, cazzo, torna indietro, cazzo, ma questo non riesce a fare un cazzo di niente, Poverino, o sono io che le porto rogna. Allora, Giorca F era andato bene, e abbiamo puntato a Giorca F. E tanto è così, che dopo una volta, l'ho visto lì, a quella menata che fanno a Monte Carlo, che si mette il piede nel coso d'oro, che c'era in casa. E c'era lui, quell'anno lì, lui e Roberto Calcio. E mi dice ancora, allora era già andato alla grande, dice no, capisco benissimo, perché facevo delle partite in quel periodo, schifosi, però capisco che tu non avessi detto, no, perché non potevo, non sapevo cosa dire, non facevo niente. Pensa a un giocatore così, perché una partita non puoi, due, tre, alla terza, siccome poi c'era quell'altro, abbiamo smesso di fare la quarta, non so, la quinta, ma tre già bastavano, perché in tre partite, non vedere un giocatore così, fare un qualche cosa, che ti dica, cazzo, però questo, niente, e quella lì mi è rimasta sempre, peccato, e quella che mi è rimasta di più, di più, di più, è stata quella di Cristiano Ronaldo, perché l'Inter non ha spinto abbastanza, di prenderlo, quando aveva 17 anni, non aveva assordito, quella lì, e tu eri andato a vederlo? Sì, io sono andato a vederlo, perché mi ha chiamato un mio amico, del Portogallo, Mendis, che non è Mendis quello che è il procuratore, un altro Mendis, mi ha chiamato, ha detto, viene qui che c'è un giocatore, giocava nella primavera, e vado a vederlo, nella primavera, un campo piccolo, e si è fatto, si vedeva, il film fateva delle cose belle, ma soprattutto io, esperto nella materia, ho guardato una cosa, che mi ha impressionato, che tutti andavano a, a picchiarlo, tutti volevano picchiarlo, voleva dire che era il bravo, perché, quando vanno tutti dentro i giocatori, soprattutto nei ragazzi, ho detto, cazzo, questo è bravo, e io ho fatto delle cose belle, sono tornato indietro, sono andato un'altra volta, ancora belle, torno indietro, e dice, bisogna prenderlo, era in primavera, costava quasi niente, era di un procuratore, che si chiama, Benga, si chiamava, e quest'altro Mendis, veniva anche con l'altro amico mio, a vedere le partite, e ci chiedeva, dopo si è montato la testa, ma va bene, e ha fatto un miliardario, e allora, bisogna prenderlo, bisogna prenderlo, bisogna prenderlo, bisogna prenderlo, insomma, glielo dico, poi l'Inter non ha spinto, non ha spinto, ha aspettato, poi ha mandato un altro a vedere, poi ha andato Branca a vederlo, poi ha andato a Val, poi Morale della Fava, dopo pochi mesi, viene a giocare, in Coppa, lo Sporting con l'Inter, Coppa e Campioni, ho detto, cazzo, adesso sta a vedere, che questo gioco, ti castiga, perché prima non lo conosceva nessuno, non era, non aveva toccato la prima squadra, infatti qui è entrato, mi sembra 5 minuti, però non è bastato, poi, ha fatto una partita a Vigo, è un mio amico, che giocava con me, nel Barcellona, questo era fatto, di tutti i colori, mi chiama, e dice, cazzo, ho visto un giocatore, ti mando il video, un caso, l'ho già visto, e niente, non abbiamo spinto, non abbiamo spinto, è andato, è andato, è andato avanti, e niente, poi dopo due anni, quando viene Oreali, a fare il dirigente all'Inter, mi chiama, un giorno, e mi dice, chiama Mendes, perché dopo l'ha preso Mendes, chiama Mendes, che vogliamo parlare, di Ronaldo, mi sembra che è un po' tardi, però io lo chiamo, lo chiamo, viene qui a Milano, dice, sentiamo, può darci, vediamo, loro, questo sport, mi hanno fatto, chiamano in Portogallo, una parceria, un accordo, col Manchester, che è andato al Manchester, col Manchester, facevano una partita amichevole, davano un po' di soldi, e i giocatori interessanti, li prendevano, le altre cose, li prendevano, ho fatto un amichevole, il sport in Lisbona, Manchester, e tutti i giocatori del Manchester, lì, come si chiama l'allenatore, il Vettel, Ferguson, mi stiamo preso, a prenderlo, e l'hanno presso loro, presso loro, eh, di Dan e Ronaldo, gli avrei messo le tene, lì, la scontrima di essere, però quella lì, era un affare, poi talmente, dai, poi non costava niente, quando tu le davi, 500 mila euro, te lo davano, perché l'e-sporting, era morto di... Ma che cosa non aveva convinto, perché non erano convinti, di prenderlo? Non ho capito, perché non erano convinti, cos'è che li ha fermati? Non è che non erano convinti, non aspettavano, non andava, non andava, come diceva, domani, domani, aspettiamo, domani, domani. Troppo tardi. Una volta sono già andato da Massimo, in ufficio, l'ho detto, senti, Massimo, adesso è venuto qua, non ha giocato, prendiamolo, prendiamolo, se non viene fuori un giocatore, guarda, ti pago io i soldi, perché non so cosa fare, eh, c'è stato un momento, onestamente, che avevo parlato con Casal, che era venuto qua, con la costa di Recova, così, l'avevo detto, cazzo, mi viene voglia di, perché non lo prendiamo noi, anche, come giocato, perché era una mina, era quella lì, dai, e niente, niente, finché sono arrivati questi qua, hanno fatto questa, questa parseria, anche la parola già è brutta, parseria, che cazzo è, e l'ha cucato per niente, quello lì, perché mi hanno dato quattro mali, due, una partita amichevole, e se l'hanno portato là. Io mi ricordo, Luis, parlando di Inter, e di opportunità per l'Inter, che mi aveva raccontato una volta, Casiraghi, che è mancato un paio d'anni fa, che era il capo degli osservatori dell'Inter, l'avevo trovato per caso in un ristorante, ed era stato carinissimo, era venuto lui, io non lo conoscevo, perché non... E allora avevamo parlato, lui mi aveva detto, io ho un grande rimpianto, dice, potevo prendere Pogba, e dice, l'avevo vista, non so più in che competizione, Under 20, qualcosa di genere, dice, e mi sembrava un po' lento, e ho sbagliato questo rimpianto, che l'Inter poteva prendere Pogba, e pensa che onestà che ha avuto, non è venuto a dirmi tutti quelli bravi, che aveva trovato, lui era un fenomeno, mi ha detto, chi aveva sbagliato per primo? Ma, dimmi ancora questo, tu mi hai detto quelli che, qualcuno che invece tu avevi detto, non prendiamolo, e che l'hanno preso lo stesso, e si sono pentiti, un giocatore che magari tu avevi detto, no, che non prende, no, vabbè, poteva essere questo Zidane, perché in fondo... No, ma qualcuno che invece ha fatto male, che tu avevi detto, non prendiamolo, che questo è scarso, Ah, prenderlo e che ha fatto male? Eh, che tu avevi detto no, e loro l'hanno preso lo stesso. Ma onestamente no, perché la maggior parte erano tutti giovani, che prendevamo, e poi, per esempio ho preso Zamorano, parametro zero, uno dei primi parametri zero. Ma Vampeta, te lo ricordi Vampeta? Eh, sì, sì, ma sì, non c'ero io, era prima di me, mi sembrava Vampeta. Sì, ma non è che dobbiamo proprio ricordarli tutti. Sì, sì, no, abbiamo dei grandi campioni che non sono venuti, magari qualcuno che invece potevano, se pensi che poteva prendere il Cristiano Ronaldo, ho preso Vampeta. No, perché poi aveva preso per esempio, Davo e Silvestri, che era molto giovane, Silvestri dopo hanno preso 20 miliardi da Inghilterra, ho preso per niente quasi. Sì, sì, mi ricordo. Che erano in gamba. E c'è un giocatore dell'Inter di adesso che ti piace? Chi è quello che ti piace di più? Ma sai, adesso, eh, eh, mi piace come si chiamano, Messi. No, parliamo dell'oggi. Allora, eh. No, adesso non è che vedo tante partite, onestamente, adesso, ma adesso ci sono quei soliti, come sempre, accade un po' due e tre, questo Mbappé, questo Mbappé è bravo. E c'è condizioni buone. Neymar si è fermato un po', secondo me. No, invece volevo chiederti e chiedervi, così veniamo anche all'attualità, nel caso di Bala. Ecco, per esempio, all'Inter anche abbiamo preso Pirlo, e che dopo l'abbiamo regalato al Milano. Ma non è che bisogna ricordarselo? Pirlo, sedo. Lasciarlo parlare, fare la propaganda. C'era un periodo, cazzo, che ogni tanto davano i numeri, non so cosa facendo. Andiamo a Madrid a prendere sedo, lo portiamo, prendiamo Pirlo del Veresce, che niente, e poi al Milano vanno. Ma chi è che ha mandato dietro loro? Non è che ha mandato Di Stefano, Messi, chi ha mandato? Quello lì, argentino, Coco, Guglielmi Impietro. Guglielmi Impietro, no, 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 Guglielmi Impietro l'abbiamo scambiato con Brocchi, diciamo che per sedo c'è stato lo scambio con Coco, Coco, e per Pirlo c'era stato uno scambio di plusvalenze con Bruncic. Ah, Bruncic, c'è un giocatore oggi che in qualche modo ti assomiglia? Ma adesso quel ruolo lì non è che ne vedo tanti. Per esempio, quando ha fatto Pirlo, il periodo che l'ha fatto, che prima quando l'avevano preso giocava più avanti, poi ha fatto questo arretramento che è stato la fine del mondo per lui. Quello si assomigliava un po'. Brozovic non ti piace? Sì, sì, gioca bene. Però mena troppo il torrone. Quello lì con Eriberto Herrera non giocava. Non giocava, non giocava con Eriberto. Con Eriberto Herrera. Ho capito, ma Eriberto faceva i danni. Eriberto Herrera, voleva sempre che tu, pam, pam, poi ciò che girassi, e girassi. Allora io ero abituato, figurati ad anni, e la mia specialità, prendevo il pallone e facevo, pam, a mazzola. E lui in allenamento, fermi. Cosa è successo? No, troppo veloce, bisogna fare il giro di qua. E allora le dissevo io. Va bene, ma se io trovo la possibilità, che trovo uno, di andare lì. No, 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 tu fai di qua, giriamo di qua, di qua, di qua. Sì, sì, ma Eriberto, insieme con Amaral, sono quelli che creano, diciamo, l'inizio del Tiki Taka. Allora, ancora una cosa da casa. Da casa, questo telespettatore, tifoso della Juventus, scrive, simpatico testimone di quel bel calcio che non c'è più, pur essendo bianconero, profonda stima per un uomo che negli anni 60, io ero bimbo, detestavo tantissimo perché era veramente forte. gli Juventini, certo, non potevano marti, di sicuro. No, tu pensa che con Eriberto, no, c'avevo un sacco di coincidenze io, belli, prima di arrivare qui all'allenatore. Perché, prima, una, ha esordito anche lui, il nazionale, era uno di quelli oriundi, così, che lo stesso giorno che ho giocato io il nazionale la prima, ha giocato lui la prima. Poi, con me giocava un ragazzo paraguaiano, Martínez, Eulogio Martínez. Era molto amico perché lui era, aveva vinto un sudamericano, era per i ragazzi giovani del Paraguay, era una o così. E quando andavamo a giocare di qui e di là, che passavamo da Madrid, andava, questo andava sempre a trovarlo, io lo accompagnavo e andavo da lui a prendere un caffè lì, perché non prendevamo l'aereo più tardi, no? E ho avuto un'amicizia buona, che si, cazzo, e poi quando, poi, ah no, prima viene a fare l'allenatore alla Juventus e io ero qua che giocavo. Allora ogni tanto lo chiamava, lui mi chiamava e sono andato a Torino, andavo a Torino a trovarlo, perché abbiamo fatto un'amicizia alla Spagna. Cazzo, passa qualche anno, viene a fare l'allenatore, ma... avete rovinato l'amicizia? Oh sì, sì, è stato il famoso o tu o corso, ma poi non è finita lì, o tu o corso, o tu o corso, vabbè, sono andato via io e vado alla Sampdoria. Primo anno venerdì non facevamo niente di niente, e il secondo anno chi ti capita? Allenatore? Eriberto Errano. Anche alla Sampdoria? Io penso che è stato quello che mi ha fatto smettere prima, che mi ha detto no, adesso lo aspetta. Ma fissa te. C'era con lui anche in quell'anno lì alla Sampdoria anche Lodetti? Lodetti, sì, sì, Lodetti anche con... Però Lodetti le piaceva, eriberto, perché Lodetti era un combattente, no? Ma con me ce l'aveva, perché... Ma non so che cazzo... C'è la villa sul mare? Sì, Anche lui avvitava i nervi, però. Ma volevo chiedere ancora questo, la fine della presidenza Moratti? Eh? De quale? Papà o... No, dell'ultimo, di Massimo Moratti. Di Massimo, sì. Secondo te non poteva più andare avanti Moratti? Perché secondo te ha lasciato l'Inter? Questo non te lo so dire, se era una questione economica, no, forse si era un po' stufato e forse era un periodo che era più difficile, fare il presidente come lo faceva lui prima, perché... Ci volevano troppi soldi. Eh, era aumentato diciamo la questione che doveva immettere troppi soldi magari a fondo perduto. sì, sì, esatto. E poi può darsi anche, non so, magari il lavoro suo era un po' calato perché sai, parliamo quando all'epoca del papà soprattutto andavano a gonfio bene con la raffineria. faceva il benzinaio. E' un benzinaio, sì, Massimo Moratti. Aveva una pompa di benzina cinola. Una pompa di benzina di Ciavegna. Un piazza Duomo. Un piazza Duomo. Aveva a che fare con quel mondo. Era la più grande d'Europa. Un piazza Duomo. Un piazza Duomo. meno. Forse che il primo no. Ma sai, non lo so. A me mi è piaciuto molto il periodo che ha fatto Luciescu. Perché era molto di calcio, faceva tutto basato sul calcio, anche gli allenamenti e così. Mi piaceva molto. Però non è che aveva una grande squadra lui in quel periodo lì. Mi è piaciuto molto lui. E non so, per esempio Mancini, Murigno. No, però Mancini non l'ho vissuto io. No, lui finisce prima. Tu hai finito prima del... Eh sì. No, io ho avuto Bianchi, Luciescu, il periodo di Luciescu, Oxum. Chi è stato ancora un altro? Ma no, un po' quelle lì. Non mi ricordo più. Cooper? Eh? Cooper? No, Cooper già non c'era. Già non c'era. Ma tu una volta sei andato via e hai continuato a fare un po' l'osservatore per l'Inter? Sì, dopo ho continuato ancora un po'. Io ho fatto il capo osservatore e poi ho messo e ha preso il posto mio Branca di capo osservatore. Però dopo un po' mi ha chiamato Moratti e mi ha detto senti, tu continua, va per conto tuo, anche questa non l'ho capito, prima non c'è, però dopo continua per conto tuo e vai a vedere, perché tu hai portato tanti giocatori qua, giovani così, che sono andati bene e tu vai e quando c'è qualche cosa me lo dici. Lo dici a me? Perché io avevo, quando lavoravo, facevo il capo osservatore, avevo la carta di credito, cioè facevo il pom pom pom. E ho detto no, 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 continua con quello lì e ho continuato con tutto uguale, senza la carica. E andavo con tutto il mio a vedere quello che mi segnalavano amici miei. Luis, con Tardelli c'eri? Chi? Quando c'era Tardelli No, no, perché questa... C'eri? È una domanda. No, no, è una domanda tendenziosa. Ma devi decine tu le domande. Questa è una domanda tendenziosa. No, ma che era? E Lippi, quando c'era Lippi nemmeno, Luis? Ah, cazzo, era Simone, cazzo, Simone. Anche Simone ha fatto bene nella sua maniera. Però Simone ha avuto a disposizione una bestia lì di fare quel cavolo che volevi. Bastava mettergli attorno un po' di roba, di battaglia, anche, onestamente... Se tu pensi che in difesa aveva Colonnese e Galante, Simone, in difesa aveva Colonnese e Galante, non è che avesse... Vergome. Però, però c'aveva... All'inizio aveva Vergome anche, Sì, però c'aveva il fenomeno davanti. Però quello che dice Luis, mi pare poi ci sia tanta verità, cioè quando tu hai un fenomeno lì davanti l'allenatore è meno importante se sei in fuori grassi. Sì, perché deve pensare a così, a sistemare certe cose, però non deve inventare niente perché dopo piano di lì in avanti poi se c'è uno anche in mezzo con uno avanti vai a nozio. Devi essere bravo a metterlo a suo agio. Ronaldo ha sempre detto che con Simone stava benissimo perché comunque sia lo faceva sentire importante. Sì, vabbè, tutti quanti. l'unico che le rompeva giustamente perché ha grossi caratteri era Simeone. Quando arrivava lui che aveva quelle giornate che non c'aveva tanta voglia di fare l'allenamento veniva e viste facciamo la partitina e allora questo che si diceva beh, pensa andiamo a lavorare che domenica dobbiamo vincere e cazzo era l'unico che diceva qualche cosa anche adesso più o meno. Però l'altro riposavo un attimo era andato lì a come si chiama al ristorante che lì pensa alle lotto lì a mangiare la carne ho capito era andato e allora quella mattina aveva tanta voglia Luis, Luis c'è una domanda che non so senza risposta da casa chiedono se ci puoi raccontare l'aneddoto di padre Pio del 65 l'aneddoto di padre Pio del 65 ah che siamo andati a trovarlo quando siamo andati a Foggia a giocare la partita c'era il padre Pio che era famoso loro partivano prima sono partiti il venerdì sera in vagone letto e sono arrivati il sabato a Foggia domenica mattina prima della partita sono andati a San Giovanni siamo scappati 4-5 siamo andati a trovare padre Pio ah e cosa è successo niente siamo andati in un albergo e abbiamo giocato e poi non mi ricordo se non è quella che abbiamo perso no non era quella era quella lì e poi abbiamo perso 3-1 allora padre Pio non ha funzionato non hai capito niente poi gli ha fatto vincere lo scudetto ahimè era vivo padre Pio si ma in quella in quella circostanza nasce questa leggenda che per esempio Luis non si ricorda bene e cioè sembrerebbe che sono ricoglionito cosa non mi ricordo no no sembrerebbe che durante il colloquio padre Pio gli avesse detto oggi non vincete però non vincete non vincete è vero o no? si ma non me lo ricordo perché io non c'ero non ero fra quelli che sono andati lì però non ascoltare mai Franco Orsi mi raccomando me l'hanno detto loro era vero gli hanno detto oggi guardate che oggi non vincete esatto però tu pensa com'è il calcio perdi 3-2 lì del campionato ci allontaniamo ha avuto un intuito questo presidente ogni tanto dava i nomi dei nostri Morati le comanda dopo la partita è entrato lo spogliatore calma perché un altro sarebbe arrivato cazzo ho perso siamo praticamente lo scudetto lo davano per perso era due punti le partite allora non a tre e questo qui ha detto niente va bene è andata così calma pace da adesso da oggi cominciamo a pensare alla coppa dei campioni cioè il campionato deve servirsi come preparazione alle partite per le partite di coppa dei campioni cazzo ci ha lasciato un po' così no perché aspettavamo tutti cazzo questo entra come e invece cazzo abbiamo cominciato pam 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 penso che non abbiamo perso più una partita no nemmeno una e il Milan ha fatto un paio di ma il Milan aveva avuto un problema il problema con Altafini con Altafini quando è tornato Altafini era andato e poi è tornato si è creato un po' di cose con il Milan e ha perso qualche partita e noi e loro hanno perso in casa con il Vicenza loro hanno vinto hanno vinto fuori casa e hanno fatto il sorpasso allora ci fermiamo un attimo qui perché adesso apriamo una enorme pagina di mercato così ci dai qualche opinione anche sul no ma io il mercato parlo anche io e allora adesso ci divertiamo con tutti i casi in mercato perché sono arrivate le novità dell'ultima ora molto importanti quindi due minuti non ci fermiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti